Siamo a ponteggio pieno dopo due giornate, quindi meglio di così non poteva andare. Sì, sicuramente abbiamo avuto qualche problemino nel tenere il ritmo di queste partite iniziali, visto che comunque c'era del ritmo basso ed è sempre difficile giocare con il ritmo basso, però alla fine penso che si sono viste buone cose, ci siamo anche divertiti e quindi va bene così. Ma sì, quando si difende è un po' così, bisogna andarci un po'. Intanto è buono che tocchiamo così tanti palloni in difesa, cosa che poche volte abbiamo fatto negli anni passati, quindi già che tocchiamo tanti palloni è un buon segno, poi cercheremo di tenerli tutti per aria e renderli giocabili. Bene, bene, assolutamente bene, stiamo cercando di trovare il ritmo giusto, sicuramente lui ha l'imbarazzo della scelta chi darà la palla, quindi spero di riuscire a dare una mano alla squadra come tutti quanti.